Ci siamo, per anni ci avete detto convocateci in piazza e verremo lì, è arrivato il momento ragazzi, abbiamo sempre rispettato questa vostra disponibilità senza mai abusarne, ma adesso abbiamo bisogno di voi, di tutti, lo dico anche a chi non vota Movimento 5 Stelle, siamo in piena emergenza democratica, Lega, Forza Italia, PD e Alfano stanno per mettere la fiducia alla Camera sulla legge elettorale ed è un atto di imperio, significa che non potremo discutere nulla, ci impediranno di introdurre le preferenze, di fermare le accozzaglie, di eliminare le multicandidature, una serie di meccanismi che permetteranno a chi perde le elezioni di andare al governo e a chi le vince di finire all'opposizione, è la peggiore legge della storia ed è una legge truffa perché darà un risultato diverso dal volere del popolo, concepita da questa accozzaglia di partiti che non è in grado di vincere le elezioni senza imbrogliare e questo credo che sia ingiusto e pericoloso al di là che si sia del movimento o meno. È una legge tra l'altro che vorrebbe far piombare l'Italia nel caos favorendo l'inciucio Renzi Berlusconi con la benedizione di quel venduto di Salvini, ma non si può fermare il corso della storia con una legge, credono di indebolirci, invece finiranno per rafforzarci se saremo tanti e reagiremo. Da domani iniziano i voti di fiducia in aula alla Camera, poi il voto finale sarà segreto, più faremo pressione in piazza più quel voto segreto potrebbe far saltare la legge, noi dentro voi fuori, è il momento di fermare questa vergogna, pacificamente, ma come popolo. Vi aspettiamo domani, mercoledì 11 ottobre alle 13 in piazza Montecitorio, saranno due giorni di aula molto duri per noi, se potete restate anche giovedì per il voto finale. Lo dico ai nostri consiglieri regionali, europarlamentari, sindaci, consiglieri comunali, attivisti e tutti i cittadini che amano questo Paese, lasciate quello che state facendo e raggiungeteci. Forza!